Adesso c'è un servizio con Piero Gattoni, seguito da un altro servizio con Massimo Centeno. La grande notizia è che c'è un notevole aumento degli impianti di biogas, siamo oltre i 1600 di impianti agricoli, arriviamo a 2000 impianti calcolando anche quelli non agricoli. Come vedi lo sviluppo della situazione nei prossimi anni? Sono sicuramente ottimista perché penso che in questi anni la digestione anaerobica in agricoltura abbia dimostrato le proprie potenzialità. In primo luogo il fatto di contribuire alla produzione sicuramente di energia elettrica e termica rinnovabile, ma poi anche la potenzialità di arrivare a produrre un biocarburante avanzato che è praticamente il biometano da utilizzare nei trasporti, sia gassoso che soprattutto liquido nei trasporti pesanti. Avanzato perché noi possiamo produrlo con biomasse che non vanno in competizione col settore del food. Io vedo che questo potenziale ha però prodotto non solo uno sviluppo industriale importantissimo in cui noi italiani abbiamo un know-how unico al mondo, ma soprattutto ha contribuito a sviluppare un modello di economia circolare in agricoltura. Produrre biogas nelle nostre aziende è molto di più di produrre solo energia. Noi contribuiamo attraverso una intensificazione agroecologica dei suoli e attraverso il fatto che col digestato, che è un fertilizzante organico che c'è alla fine del processo, contribuiamo a fare l'azione più importante oggi che dobbiamo fare, riportare carbonio nel suolo. Questa azione è l'azione fondamentale che anche tutti i rapporti oggi stanno individuando come prioritaria nella lotta al cambiamento climatico. Il Consorzio Italiano Compostatore negli ultimi anni ha vissuto anche una sorta di evoluzione, quindi seguendo un po' le tendenze evolutive. Abbiamo un po' sposato la produzione di biometano, quindi ci siamo legati alla mobilità sostenibile. Perché? Perché alcune aziende, tra l'altro le prime in Italia, hanno trasformato la loro produzione in biogas in biometano. Alcuni di questi impianti immettono il biometano in rete, altri lo immettono nell'autotrazione. Noi abbiamo calcolato che se tutti gli italiani facessero la raccolta differenziata dalla parte organica e se tutta la parte organica andasse a produrre compost e biometano, il biometano sarebbe autosufficiente per alimentare tutte le flotte che raccolgono non solo la parte organica, quindi il rifiuto organico, ma tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Quindi questo è il nostro principio di economia circolare che ci fa andare avanti oltre alla produzione di compost e quindi alla fertilizzazione dei suoli. Noi in Italia abbiamo una buona, soprattutto in situazioni dove c'è il porta a porta spinto, abbiamo delle performance molto elevate, cioè abbiamo una qualità dell'umido molto elevata, con impurezze, chiamiamolo così, quindi diciamo elementi indesiderati che poi nell'impianto vengono chiaramente tolti, del 5% più o meno. Quindi abbiamo un 95% di purezza merceologica che è altissima. Certo, ci piacerebbe ridurre anche da questo 5% e portarlo a zero. Cosa troviamo noi di impurità? Normalmente materiali plastici, quindi il vasetto dello yogurt, il contenitore del prosciutto confezionato, ecco tutti i materiali, imballaggi che accompagnano l'umido, che in cucina per errore o per negligenza si mettono nel secchiellino dell'umido. Ecco, sarebbe importante fare un'operazione capillare a tutta la popolazione per, innanzitutto per spiegare che queste sono raccolte che vanno a buon fine e poi per migliorarle. Ecco, sarebbe importante fare un'operazione capillare a tutta la popolazione